5 buste. Ragazzi, oggi Lorenzo ha buttato tutta la spazzatura, solo lui, c'aveva almeno 4-5 buste. C'aveva almeno 4-5 buste, sono proprio felice. Ha buttato la spazzatura. Eh sì ragazze, questa è l'ultima novità di FGM04 che ho acquistato, il nuovo body free da Charm. Io in assoluto è quello che preferisco di più perché ha lo scollo squadrato e le spalline larghe e quindi lo rendono praticamente facilissimo da indossare, cioè non lo sentite nemmeno. Poi il color corallo che io amo, questi colori pastello, è pazzesco e tra l'altro è il colore che andrà più di moda questa primavera estate. Voi lo sapete, come vi ho sempre detto, che comunque questi body oltre a ridurre gli inestitismi di pancia e fianchi e a drenare, rimodellano la silhouette. Raga, ve lo giuro, io appena lo metto sembro una modella, quindi vedete che dovete fare? Oggi ho l'appinamento perfetto perché ho il mio body preferito e i miei leggings preferiti. Ve li ricordate? I leggings Nikita Push Up. Raga, io ormai non li tolgo più, ci vado ovunque in palestra, devo andare a fare la spesa, me li metto o sto a casa. Allora, li amo io i leggings perché oltre a ridurre gli inestitismi della cellulite, a tonificare, a parte che sono ideali anche per chi soffre di gambe gonfie, ma raga, alzano il lato B. Poi dici, perché non te li togli più? Eh, perché se ti alzano il lato B, c'è, non è che sta cosa mi dispiace, eh? Pazzeschi. Poi vi ricordo che FGM ci ha inserito uno Swarovski qui, proprio per evitare imitazioni, perché sono prodotti made in Italy, sono testati clinicamente e dermatologicamente. Voi mi avete sempre chiesto, ma c'è un codice sconto? No, raga, qual codice sconto non c'è, però c'è una bella promozione, ovvero che se andate sul sito e acquistate due prodotti, il secondo lo pagate solo 10,90€. Io vi lascio anche il loro numero WhatsApp per qualsiasi richiesta, perché sono gentilissimi e disponibili, quindi potete chiedergli qualsiasi cosa. Allora, io volevo ringraziare tantissimo l'associazione Gioca Amico Ollus, intanto perché mi hanno mandato questo pensiero stupendo, ma io più che altro quando ho visto il video di ciò che fate, Cioè, sono io a ringraziare voi veramente per quello che fate a tutti questi bambini che si devono curare. Per chi non lo sapesse, praticamente loro non fanno pesare ai bambini le cure che devono ricevere e quindi in questo ospedale si gioca ogni giorno e c'è sempre il sorriso, nonostante comunque delle complicazioni che ci sono. Siete delle persone stupende, mi avete fatto no emozionare di più.